ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni meteo del feriuli venezia giulia di venerdì 17 gennaio cielo poco nuvoloso per velature anche consistenti ad alta quota sulla costa soffrirà bora moderata in versione termica notturna nelle valli possibile qualche nebbia notturna in pianura temperature sulla costa le minime saranno comprese tra i 3 e 6 gradi le massime fra 9 e 11 gradi in pianura le minime saranno comprese tra meno 1 e 3 gradi le massime fra 9 e 12 gradi a mille metri due gradi a 2000 metri meno un grado grazie a tutti l'appuntamento è domani con le previsioni meteo grazie a tutti